Direi che insomma tutti speravano in un risultato positivo, in una vittoria, ma di queste proporzioni, in questo modo, senza otto titolari, forse neanche Guidi se l'aspettava. No, io mi aspettavo solamente una grande reazione dopo una bruttissima partita giocata a Carrara la scorsa settimana e questo ce lo siamo imposti come gruppo, come squadra. Dovevamo dare una risposta perché eravamo stati troppo brutti la scorsa settimana e sapevamo di dover affrontare una squadra estremamente importante e di qualità che qui al Mannucci ha saputo battere le grandissime squadre come Pescara, Modena, ha pareggiato la Reggiana e l'Entella. Quindi se oggi fossimo mancati dal punto di vista del carattere sicuramente avremmo fatto una brutta figura. Abbiamo giocato molto bene e oggi gli elogi sono tutti da parte, che devo fare da parte per i ragazzi, per la squadra, perché questa è la strada che dobbiamo percorrere, perché solamente così riesce a emergere su un campionato difficile come questo girone quest'anno. Le sue parole dopo la brutta prova di Carrara hanno colpito nel cuore la squadra, hanno colpito prima gli uomini e poi i giocatori, lo ha detto Simone Rosso poco fa ai nostri microfoni. Sì, sì sì, ero estremamente deluso perché noi avevamo già fallito una partita col Montevarchi proprio dal punto di vista caratteriale e temperamentale. Le partite si possono perdere, ci mancherebbe, ma è sempre il come che fa la differenza e non ho potuto tollerare il secondo tempo giocato a Carrara, dove è finita 4-0, ma vi garantisco poteva essere anche un risultato molto più ampio, perché ci siamo praticamente consegnati ai nostri avversari. Noi le partite le possiamo perdere, ma dobbiamo giocare dal primo al 95esimo al massimo senza regalare niente, cercando sempre di mettere in campo quei valori che poi devono contraddistinguere ogni singolo professionista e ogni singola squadra. Oggi la squadra l'ha fatto e penso che il risultato sia ampiamente meritato. Faccio un'ultima domanda e poi coinvolgo ovviamente dallo studio Andrea Costantini e Jacopo Forcella. La vittoria nella giornata più difficile, dopo i dieci giorni più difficili degli ultimi anni del Teramo, ma dinanzi ad una proprietà che oggi era presente sulle tribune dell'Ettore Mannucci. Cosa vuol dire questa vittoria e se può cambiare davvero la storia di questo campionato del Teramo? Ma ce l'auguriamo, questo deve essere un segnale chiaro ed è anche vero che le ultime notizie, le buonissime notizie che ci hanno rassicurato, è chiaro che hanno dato forza anche a livello mentale ai giocatori. Non era facile la scorsa settimana per tutte le note vicissitudini, però io dico sempre che nelle difficoltà devi sempre affrontarle a testa alta. Domenica scorsa non l'abbiamo fatto, in settimana ci sono giunte quelle notizie che tutti quanti ospicavamo che arrivassero e oggi la squadra ha fatto quello che doveva fare e ha reagito nella maniera giusta. E ora dobbiamo insistere perché se no vanificheremo la bella prestazione di oggi. Mister, le passo l'auricolare così ci sono le domande di Andrea Costantini e Jacopo Forcella. Linea allo studio. Ciao. No ma di partenza era un po' quello perché io non potevo nella preparazione della partita non volevo togliere delle certezze alla squadra in un momento di difficoltà. Cioè stravolgere all'inizio della gara tutto quello che avevamo fatto e per quale avevamo lavorato dall'inizio della stagione secondo me rischiavo di metterli più in difficoltà che dandogli un aiuto. quello che avevamo fatto e come abbiamo finito la partita con il 3-4-3, 5-4-1 in fase difensiva come abbiamo finito la gara era una cosa che abbiamo provato tutta la settimana ed era anche un sistema che avevamo già affrontato e adoperato contro il Cesena in casa e sul quale stiamo lavorando. però in partenza non volevo togliere certezze a ogni singolo calciatore visto il momento di difficoltà che stavamo passando. Sì 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 ma devo dire che tutti oggi la partita è nata partendo dalla prestazione, dal carattere, dalla voglia, dallo spirito di rivalza è chiaro che quando metti intanto in campo tutte queste componenti poi le prestazioni vengono perché questi ragazzi tante volte lo hanno fatto io penso che come spesso vi ho detto e vi ho raccontato ho a che fare con dei ragazzi estremamente intelligenti e oggi lo hanno dimostrato. Ci sta che in un percorso si possa commettere degli errori l'importante è capirli e oggi tutti loro li hanno fatto dal primo al 95esimo tutti quanti anche quelli che sono subentrati dopo è chiaro che avendo solamente tre centrocampisti a disposizione più sul ricchio il giovanissimo è chiaro che se nella partita fosse successo qualcosa per forza di cosa avrei dovuto cambiare sistema. Sì allora Bellucci ha preso un forte trauma sul setto nasale, è gonfio quindi verrà valutato però insomma stava meglio, è chiaro che ha preso una brutta botta sul setto nasale però non penso che gli pregiudicherà la possibilità di giocare la prossima Ziozmanovic sarà squalificato però conto e spero, mi auguro con tutto il cuore di recuperare Buacu, Curullo, Birligea nella prossima settimana oltre a Piacentini quindi mi auguro di poter scegliere